Quindi a fare lo spiritoso, con me, che sono un cittadino semplice, col quale lei può alzare la voce, col quale lei può urlare, battere i pugni sul tavolo, usare il violetto, seguitevamo questa storia. Intanto è lei che alza la voce, batte i pugni sul tavolo, ma lei si rende conto in che situazione si è cacciato qua? Io sono... Tra i litri di alcolico e le sigarette adozine... Era molto più caldo prima della polvere per dentiera, se posso permettere. No, basta, questo ormai è requisito. Signor Robaccia, lei sta veramente peggiorando la situazione con questi tentativi. No, guardi, io non sto tentando nulla. Guardi, posso... Guardi. Ma perca, ma perca, ma perca. No, ma guardi, guardi. Ma dottor, no, non si frega, è Natale. Non lo so, Pasqua, che cos'è adesso? Dottor Robaccia, questa tentativa è molto grave, è molto grave, in primis, in primis, perché questi soldi a me non servono a nulla. Ah, allora, però, le posso... Aspetta, è della... E io sono senza portafoglio, perché l'ho lasciato in albergo. Era questa. Ah, ecco chi mi ha fregato il portafoglio. Andiamo a fare la denuncia. Robaccia, a me risulta che lei non ha più un becco di un quattrino. Facciamo duemila? Lei mi insulta. No, vabbè, cinque perché è simpatico, però basta, eh. E macete? No, è forfettante. Il tentativo di corruzione è registrato. Io la devo arrestare, signor Robaccia. Non ho altra scelta. Bella figura del cacio di pallo che ci fa, lei si figuri. Ha registrato? Da che ha registrato?